Continuerò con voi qualche breve riflessione su cosa sia l'innovazione e che cosa si può fare in contesti come questi per sviluppare cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità. Vediamo, ecco qua, ci siamo. A che cosa pensiamo? Cosa ci viene in mente se ci poniamo come obiettivo di descrivere l'innovazione? Che cos'è l'innovazione? Quali sono le storie di innovazione che possiamo meglio descrivere che abbiamo in mente? Probabilmente ci verrà in mente qualche garage, qualche sottoscala, qualche personaggio più o meno geniale o al quale magari manca veramente più di una rodella, ci sono soggetti di questo genere. Ecco, questo ci ha raccontato un po' la filmografia, ci sono dei film che descrivono questo periodo pioneristico dell'innovazione, dell'innovazione tecnologica. Quindi un personaggio geniale, un sottoscala, poche risorse, ma molta voglia di fare, molta determinazione, molta spinta. Ecco, io personalmente questo modello di innovazione non mi interessa e penso che tutto sommato sia it's over. Insomma, il periodo dei vali è poter fare tanti nomi da Zuckerberg, da Musk, e andando avanti. Secondo me questo periodo, diciamo, pioneristico, diciamo, di far west dell'innovazione tecnologica è un po' dietro le nostre spalle. E oggi l'innovazione tecnologica, l'innovazione a tutto tondo, è qualcosa che nasce dall'incontro di capacità, di competenze, di culture diverse, scientifiche, tecnologiche, umanistiche, da capacità peculiari, da conoscenze peculiari, da creatività peculiari che hanno bisogno di, in qualche modo, convergere, mettersi insieme per pensare e realizzare innovazione. Quindi di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno quindi di posti nei quali queste competenze, queste capacità, queste risorse umane siano presenti e siano presenti con tutte queste sfumature, queste caratteristiche, queste peculiarità. E questo è un elemento sicuramente necessario, ma non sufficiente. Poi c'è bisogno di infrastrutture di ricerca, di posti dove si possa sperimentare, progettare, realizzare, verificare, testare e così via. E quindi di che cosa alla fine stiamo parlando? Stiamo parlando di posti come questo, dove troviamo un pool di risorse umane, di competenze, di conoscenze, di creatività, di voglia di fare e anche unita alla disponibilità di infrastrutture, strutture, competenze scientifiche e tecnologiche, se non in un'università. Quindi il tema di quale voglio parlarvi e vi intratterrò in questi brevi minuti e proprio questa, condivido con voi qualche riflessione di che cosa si può fare per scatenare questo potenziale, per dare spazio a questo potenziale. Dare spazio a questo potenziale è la domanda che mi sono sempre posto un po' fin dall'inizio, ma in fondo non è che sei venuto pista, stai ragionando qualcosa che è veramente difficile perché ovviamente da un lato ci sono le potenzialità di cui vi ho descritto, migliaia di ragazzi, di docenti, di tecnici, di competenze in tanti campi, disponibilità di risorse ovviamente importanti e che però ovviamente hanno bisogno di essere attivate, canalizzate, messe in moto e questo metterlo in moto qualche volta ti porta a pensare che è un po' utopico pensare di riuscire a realizzarlo. Perché? Perché bisogna creare un percorso, un percorso che non è facile avviare in un contesto che è nato storicamente per fare didattica, per fare ricerca, adesso parliamo anche di terza missione, ma che è impostato essenzialmente per trasmettere il sapere, per trasmettere modelli, algoritmi o modelli di conoscenza che sono in qualche modo noti. Il problema è come riusciamo a connettere la creatività e le competenze necessarie dall'innovazione, come possiamo suscitare lo spirito imprenditoriale, il commitment per attuarla questa innovazione, attuarla da protagonisti e come possiamo attrarre capitali immateriali e immateriali per sostenere questa innovazione, per portarla alla sua reale concretizzazione. E queste sono in fondo, vi ho descritto, quelle che sono, dal mio punto di vista, le quattro C necessarie, esattamente in questo ordine di importanza le metterei, per poter pensare e realizzare l'innovazione. Creatività, competenze, commitment, capitali. E rimetto questi in qualche modo alla fine. Quindi è un'utopia o può essere, o è realtà. Io penso che possa essere una possibilità, non è un'utopia, voglio credere che non sia un'utopia, non è ancora una realtà, ma può essere una possibilità. Cosa possiamo e dobbiamo fare per creare, per cogliere questa possibilità, per renderla concreta, per trasformarla in realtà? E allora bisogna un po' riflettere sulle parole. Si tratta fondamentalmente di creare dei meccanismi per progettare l'innovazione, dei meccanismi capaci di portare avanti queste connessioni delle quali accennavo prima. Allora bisogna partire, secondo me, da una riflessione sul significato concettuale, sulla natura dei termini di cui stiamo parlando. Cosa significa oggi insegnare, realizzare attività che consentano ai ragazzi, agli nostri studenti, di pensare, progettare l'innovazione? E allora se andiamo a scavare nel profondo significato di queste parole, troviamo un po' quelle che sono le tracce sulle quali dobbiamo lavorare, sulle quali dobbiamo lavorare per rimuovere il potenziale, rimuovere gli ostacoli e cogliere il potenziale che c'è in luoghi come questo. Progettare, inutile dire, sono due parole che hanno derivazione, progettare e innovazione, sono due parole che derivano dalla nostra lingua madre di tutti, il latino. Proiectare, gettare avanti, far avanzare. La progettazione è un'attività, consiste nel pensare, studiare per ideare qualcosa, è un processo che fa discendere l'azione dall'idea che la precede e la guida in un percorso ricorsivo di revisione costante. È una dimensione che è collettiva, è una dimensione perché è uno spazio collettivo. Ecco, mi ricollego a quello che dicevo prima, il genio non mi interessa, spero per l'umanità che ci siano e ci saranno, ci saranno stati, ci saranno in futuro, ma noi dobbiamo lavorare non su questo binario. E quindi è una dimensione che è collettiva, integrativa di conoscenze e di capacità molteplici e differenziate. L'innovazione non può essere frutto della genialità del singolo, ha una dimensione collettiva importantissima ed è un approccio che privilegia lo sviluppo di una visione d'insieme olistica di un problema e delle sue possibili soluzioni, ma con capacità di focalizzare quando è necessario i dettagli e quindi è ricorsivo per definizioni. Progettare l'innovazione. Che cos'è l'innovazione? L'innovazione fondamentalmente è innovazionis, introdurre nuove soluzioni. È una predisposizione a cogliere opportunità, quelle che alcuni studiosi chiamano alertness, è una capacità di muoversi in un territorio inesplorato e non conoscibile ex-ante. Qui c'è una definizione di uno studioso di qualche tempo fa che parlava di un mondo della doppia U, unknown ed un-knowable, non conosciuto e difficilmente conoscibile, ex-ante attraverso anche tutti gli sforzi che possiamo fare di ricorso a quello che è stato in passato o anche soltanto modelli esplorativi di quello che accadrà. Quindi che cosa significa oggi progettare l'innovazione in un luogo come questo, in un'università, in un luogo nel quale ci sono studenti, ci sono infrastrutture, competenze che insieme possono essere messe a fattore comune. Qui abbiamo qualche metodo, qualche strumento che ci viene in soccorso, che è stato sperimentato, che è stato applicato anche con grande successo in luoghi come questi, in altre università, ed è quello del metodo della progettazione e innovazione, che quello più noto e più conosciuto va sotto il nome di una serie di metodologie che poi via via si sono sviluppate nel tempo, che sono le metodologie di design thinking, che sono sicuramente un utilissimo punto di partenza. È un insieme di tecniche e di metodi di progettazione dell'innovazione che si basa sul suscitare intelligenza collettiva tramite tre movimenti concentrici che insieme devono muoversi. Ispirazione, ideazione, implementazione. Questi metodi ci dicono che per progettare l'innovazione, per realizzare l'innovazione, c'è bisogno di questi tre movimenti, si basa ogni innovazione su questi tre pillar, su questi tre pilastri che convergono insieme. Ispirazione, avere apertura mentale per capire, conoscere, sensibilità, capacità di indagare, di entrare in empatia, come si dice in genere, con un problema. E poi ideazione, capacità di immaginare un percorso e poi sperimentazione, implementazione, capacità di verificare che quel percorso che abbiamo immaginato sia quello giusto e che cosa dobbiamo fare per modificare, attuare, migliorare il nostro progetto. Sarà un caso, e vi porterò a riflettere, non a caso inserirlo evidenziato con il rosso, che tutte e tre questi pillars hanno come radice i concetti di azione. Ideazione, ispirazione, implementazione. Potrei continuare. L'azione è il punto centrale. E allora l'azione che cosa, questa radice comune, che cosa ci deve portare a pensare? Ci deve portare a pensare che il metodo è importante, il metodo conta, ma non basta. Perché questo sia possibile c'è bisogno di un contesto adeguato, di un milieu, di un humus, chiamiamolo come vogliamo. Sicuramente più complicato, più complesso. Ma ogni metodologia di progettazione e di innovazione semplicemente non funziona se noi non creiamo un contesto. Un contesto adeguato nel quale questi tre pillar possono scaricarsi a terra e connettersi l'un l'altro. E dove arriviamo? arriviamo a quella che è un po' al momento, poco più di una vision, che ovviamente tante università come queste stanno sviluppando, sono discorsi e riflessioni che avvengono in tutto il mondo su come possano, luoghi come questi, diventare motori di progettazione e realizzazione dell'innovazione. E qui la vision è quella di guardare le università come le design factory del futuro. Che cosa c'è dentro questa vision e che non possiamo realizzarla questa vision? Ma direi fondamentalmente 4-5 elementi che secondo noi sono un po' i punti saldi, i punti da quali dobbiamo partire per realizzare qualcosa che assomigli, che ci porta diciamo nel mondo della possibilità a trasformare un'utopia in realtà. E i punti sono fondamentalmente questi, guardare, dal mio punto di vista, guardare gli studenti non più soltanto come studenti ma come comunità di innovatori, di potenziali innovatori. Qui c'è dietro un concetto, se volete, anche di empowerment, di protagonismo degli studenti che, come devo dire, la cattedra in qualche modo si toglie e ci mettiamo tutti sullo stesso livello e ragioniamo insieme su che cosa possiamo fare, cogliendo le tue capacità creative, le tue competenze e la tua voglia di fare. Interdisciplinarità, questo è fondamentale. Riuscire a mettere insieme, cosa che normalmente nell'università è difficile che accade. Ci sono le università che hanno un campus, che hanno anche fisicamente la possibilità di far incontrare fisicamente, generare una chimica personale che è importante, è altrettanto importante. Quindi favorire l'interdisciplinarità. Se l'innovazione nasce dall'incontro di culture, modi di pensare, modi di vedere, saperi diversi, ecco l'interdisciplinarità è un must. Poi, università che si aprono, capacità di coinvolgere, dare rappresentazione ad un ecosistema dell'innovazione, del quale l'università sia un perno. Un ecosistema, questa parola è molto bella, bellissima, ecosistema dell'innovazione. Non c'è, non c'è nessun soggetto singolo o plurale che ha sulla carta identità scritto io sono un ecosistema. L'ecosistema si attiva, gli si dà forma e c'è qualcuno che dà forma e contribuisce in qualche modo a farlo emergere dalle potenzialità di quello che è. E poi, ritornando all'interno dell'università, guardare ai laboratori, quei tecnico-scientifici, ma non soltanto, come risorse essenziali di una design factory virtuale, capacità e possibilità di mettersi in gioco all'interno di progetti di innovazione degli studenti. E ultimo punto, e questo anche qui richiede una riflessione profonda sul modo di essere delle università, pensare ai percorsi professionali dei nostri studenti, in uscita dei nostri studenti, a percorsi flessibili, a percorsi che prevedano per qualcuno, magari sarà una minoranza, ma ci sarà, che vogliano tentare l'avventura in qualche modo, si sentano portati, abbiano quel sacro fuoco del commitment imprenditoriale, vogliono partire come imprenditori. E magari altre, saranno magari la maggioranza, che potranno portare invece dentro l'azienda che le occuperà, delle aziende in cui andranno a lavorare, una forma mentale, una capacità di vedere, di pensare appunto all'innovazione come un progetto, un progetto sul quale bisogna far convergere intelligenza e capacità collettiva. E poi magari queste stesse persone, dopo un po' di tempo, decideranno di lasciare e di ritornare in un percorso invece di tipo imprenditoriale. Quindi bisogna preparare le persone a dei percorsi che possano in qualche modo prevedere delle azioni o dei movimenti verticali e orizzontali nel disegnare il loro futuro. E che non è possibile immaginare dei percorsi, oggi, dei percorsi lineari di carriera o di inserimento nel mondo del lavoro, nel nostro sistema economico. Quindi è questa l'esperienza e la riflessione che volevo condividere con voi, quindi con l'augurio che anche da luoghi come questi partano energia per realizzare questa vision dell'Università Come Design Factory.